Object Motion Inerance Consente di gestire l'influenza delle traslazioni dell'emettitore sulle particles. L'influence definisce quanto i movimenti della sorgente si ripercuotiranno sulle particelle. Il multiplier può essere positivo o negativo e agisce sulla velocità degli elementi generati. Variation, espressa in percentuale, opera sul multiplier variando il comportamento. È più facile vedere un esempio che spiegarlo.